Buon pomeriggio, ben ritrovati a Divina Lettura Rubrica che dedichiamo al sapere, in particolare anche alla ricerca storica, cosa che faremo proprio quest'oggi. Presento subito il nostro ospite che è Alberto Cadoppi, professore universitario a Parma e ricercatore storico. Professore, grazie intanto per la sua presenza qui nei nostri studi. Grazie a voi. Dicevamo, lei è, entriamo subito nel merito, un grande conoscitore della storia locale, oltre a tutte le altre conoscenze di storia che ha e questo mi permetto di dirlo alla luce, diciamo, delle ultime pubblicazioni che ha fatto e di cui parleremo tra pochissimo su personaggi storici di Reggio. Ma prima di entrare nel merito di queste sue ultime ricerche, io volevo un po' presentarla per conoscerla meglio e farla conoscere meglio anche ai nostri tre spettatori, anche perché vorrei partire proprio da una premessa, diciamo. A Reggio c'è anche una via che porta il suo cognome, quindi è un po' anche una storia generazionale quella che lei si porta dietro. Insegna diritto penale all'Università di Parma e poi è così tanto amante della storia. Io ho fatto una breve premessa, però lascio a lei l'approfondimento. La via è dedicata a mio padre, Piercarlo Cadoppi, che è stato un avvocato illustre reggiano, non toccherebbe mai a dirlo ma credo che sia abbastanza noto, è avvocato soprattutto penalista che oltretutto ha sempre amato molto la sua città e per tanti anni è stato in prima linea nel Lions Club di Reggio con cui hanno nei decenni fatto moltissime iniziative importanti, tra cui i primi passi per la realizzazione del Museo del Tricolore. Ecco, questo è stata forse la cosa dal punto di vista del merito civico, è stata la più importante di mio padre e che però appunto si è sempre segnalato per essere un avvocato di corte d'assise, quelli a cui piacevano i processi di sangue, quelli che poi piacevano anche alle cronache in sostanza. E per quanto riguarda me, io insegno a Parma diritto penale, che è la materia appunto che si ricollega idealmente alla realità paterna e culturale e però mi interessa anche la storia in generale ma soprattutto la storia locale, ho scritto molte cose sulla storia di Parma anche perché poi lavorando a Parma sono venuti in contatto con tante realtà interessanti per esempio ho scritto un paio di libri o un libro e mezzo sulla storia dell'università di Parma che è molto interessante. Che è molto interessante, certo, certo. Io personalmente ricordo proprio un esame all'università di Parma, la facoltà di lettere dove si ripercorreva la storia delle università italiane che è di gran lunga affascinante quella di Parma come altre hanno giocato, giocano ancora oggi un ruolo importante. A proposito di questo sta avanzando alla grande anche Unimore, l'università di Modena e Reggio Emilia. Lo ricordiamo e comunque dove c'è un ateneo è sempre qualcosa di estremamente importante per una città. E venendo proprio alla sua passione, quando ha scoperto di essere così tanto innamorato della storia locale? Io ho cominciato da professore di diritto penale a occuparmi tanti anni fa del codice penale di Maria Luigia appunto di Parma che era un codice fatto nel 1820 dalla famosa Maria Luigia e siccome si era studiato poco questo codice ebbi la fortuna di andare in archivio all'archivio di Stato di Parma e di scoprire nuove cose su questo codice trovando lettere del periodo importanti, documenti mai prima visti da nessuno. E questo mi ha aperto un mondo perché l'idea di scoprire qualcosa che nessun altro prima ha mai scoperto e che però è esistito, mi ha affascinato talmente tanto che da allora ho cominciato a periodi alterni e soprattutto quando ho tempo. Certo, in punto di scegli immaginare. Io non vado a pescare, purtroppo non posso più giocare a calcio, a pallacanestro o ad altri sport cruenti e quindi mi dedico alla ricerca di archivio che è un po' sedentaria ma è molto interessante. Senta, ed è proprio, possiamo dirlo, attraverso una di queste ricerche che lei all'improvviso arriva a proda a nuovi sviluppi circa la vicenda di Scaruffi che adesso ci racconterà anche chi era questo personaggio però vorrei stare ancora su questo lato della ricerca, no? Intanto che cosa si prova quando all'improvviso si ha per le mani una di queste lettere come nel caso di Scaruffi, dopo glielo faccio raccontare e si scopre che evidentemente la storia non è andata proprio come così per secoli è stata raccontata. Ma insomma per me è una grande emozione, è una grande emozione e a mio avviso, insomma intanto io sono uno che ama la verità amo raccontare sempre la verità, proprio per carattere e amo però anche scoprire la verità per cui fondamentalmente quando scopro un fatto del passato attraverso un documento che irrefutabilmente mi dimostra un qualche cosa che invece non si conosceva per me è una grandissima soddisfazione ed è anche un modo di fare ricerca molto diverso da quello che facciamo noi giuristi perché come giuristi positivi noi lo facciamo io da penalista discuto le opinioni altrui ho le mie opinioni, sono sempre lì a contrastare tesi diverse dalle mie sostengo i pro e i contro di una certa scelta legislativa però questo è tutto sempre opinabile e siccome poi fondamentalmente forse la mia indole è meno portata appunto per l'opinabilità a me piacciono le cose certe, concrete il trovare documenti che immediatamente danno una verità storica è qualcosa che a me piace particolarmente è simile un po' alla ricerca scientifica quando per esempio un medico, uno studioso scopre una nuova medicina o qualche cosa del genere è chiaro, sono due campi diversi ma il risultato è abbastanza simile Senta, veniamo allora subito a quest'ultima pubblicazione su Scaruffio una nuova scoperta, il vero motivo del suo arresto intanto lo ricordiamo è vissuto tra il 1519 e il 1584 io voglio anche mostrarlo intanto e è anche possibile acquistarlo dove professore? Sì, guardi, io non me ne sono occupato ma questo è stato un libro che è stato sponsorizzato dalla FAR che è la famiglia artistica reggiana e soprattutto è stato grazie a Carlo Baldi che tutti conosciamo e a cui tutti dobbiamo veramente molto per Reggio si parlava prima dell'università e devo dire che se non fosse stato per Carlo Baldi forse oggi quest'università non la avremmo nemmeno per cui è stato Carlo Baldi e quando gli ho raccontato questa storia è stato molto contento di poter sponsorizzare con la FAR la pubblicazione di questo libro che è un libretto, non è un libro molto lungo un libro compatto però illustrato e che si può acquistare alla libreria del teatro sicuramente in via Crispi e forse anche in altre librerie ma sicuramente lì Allora, veniamo alla storia che cosa succede? Intanto prima ci introduce il personaggio Sì, Scaruffi è un personaggio molto interessante i reggiani lo conoscono perché c'è un istituto dedicato a lui, scolastico però Scaruffi è stato un personaggio molto importante non solo era un banchiere era un mercante di seta nel periodo in cui Reggio ebbe questa grande stagione della produzione e del commercio della seta che portò a essere una delle città più importanti e più ricche del nord Italia a questo punto di vista ma lui oltre che essere mercante eccetera è stato anche uno studioso delle monete per cui siccome se ne occupava poi tutti i giorni per il lavoro che faceva era stato anche assaggiatore di zecca ad esempio che vuol dire che si assaggiavano le monete si assaggiavano in senso vero e proprio per capire se la lega con cui erano fatte era corretta oppure no perché si percepiva sì, perché loro ci sono gli assaggiatori di vino noi sommelier un tempo c'erano quelli delle monete d'oro e praticamente Scaruffi oltre a questo a un certo punto decise anche di scrivere un trattato importante che si chiama l'Alitinunfo e che uscì nel 1582 e che trattava appunto delle monete e che addirittura auspicava la realizzazione di una moneta unica per tutto il mondo cosa che come sappiamo per l'Europa è stata realizzata con l'euro 20-25 anni fa insomma con l'euro è stato un precursore senta e quindi questa pubblica questo trattato due anni prima sostanzialmente di morire però nel frattempo ci sono delle vicissitudini nella sua vita allora il rispetto come abbiamo conosciuto fino ad ora la storia di Scaruffi rispetto a quella che è stata invece la sua ricerca beh allora Scaruffi la sua biografia è stata tracciata soprattutto da Andrea Balletti questo grande storico reggiano addirittura verso la fine dell'Ottocento che aveva scandagliato tutte le carte di famiglia che per fortuna appunto stavamo parlando prima dei documenti sono ancora esistenti nell'archivio degli Scaruffi che si trova presso l'archivio di Stato di Reggio e lui lavorando su questo aveva ricostruito la biografia di Gasparo e aveva scoperto ad un certo punto però una cosa su cui rimanevano molti punti interrogativi che era questo arresto che Scaruffi subì nel 1566 quando durante l'estate fu arrestato a Ferrara e di questo il Balletti aveva trovato qualche riferimento sparso ma non era riuscito a ricostruire tutta la vicenda o meglio praticamente aveva dato una sua ricostruzione anche un po' di fantasia e aveva ritenuto che fosse stata dovuta a questa cosa a questo inconveniente diciamo a una sorta di fallimento di Scaruffi che non era riuscito più a pagare i creditori nelle sue attività di commerciante e di banchiere in realtà io ho scoperto che non è stato affatto questo il motivo di questo fatto oscuro diciamo della vita di Scaruffi e arriviamo dunque alla sua ricerca ma soprattutto prima di arrivare a quello che le ha scoperto che cosa le è capitato per le mani per cui è arrivato a questa scoperta ma io dunque allora c'è un vocabolo inglese che è serendipity che vuol dire quando uno cerca una cosa spesso ne trova un'altra però certo che è anche vero che chi cerca trova chi non cerca non trova nulla io spesso quando cerco una cosa ne trovo effettivamente un'altra devo essere sincero non posso mentire e effettivamente qui stavo io sto cercando sto lavorando da tempo sulla storia del Mauriziano a cui sto dedicando lunghi studi e chissà che prima o poi non salti fuori qualcosa anche su questo però ero all'archivio di Stato in Modena e nel cercare fra carte ducali antiche appunto di quell'anno nel 1566 relativamente al mio obiettivo che era quello di lavorare sul Mauriziano invece a un certo punto ho trovato queste lettere che così un po' un po' nascosta era la storia però mi ha colpito subito il nome Gasparo Scaruffi ho cominciato a leggere e ho scoperto che si trattava di un funzionario ducale allora il duca era quello di Ferrara naturalmente perché eravamo sotto gli stensi e il duca è un funzionario del duca Ferrara tale Crispi aveva scoperto che raccontava nella lettera la lettera scritta da Reggio il 15 giugno del 1566 e lui raccontava che a Reggio aveva tratto in arresto Gasparo Scaruffi perché aveva scoperto che aveva tosato delle monete d'oro moltissimi ducatoni d'oro tosare una moneta d'oro che è tradotto vuol dire allora tosare una moneta d'oro e noi giuristi lo sappiamo perché le studiamo e noi penalisti però tosare è una cosa un po' fuori moda è una cosa che si attuava una volta quando le monete erano d'oro d'argento e valevano per il loro peso e per il loro materiale allora cosa succedeva che uno prendeva queste monete magari le limava recuperava un po' di polvere d'oro d'argento eccetera eccetera metteva da parte poi a un certo punto a forza di dai dai le accumulava e quindi guadagnava naturalmente nello stesso tempo poi rispendeva quei soldi che erano ducati scudi eccetera come se avesse lo stesso valore di prima e questo era un reato era un reato gravissimo addirittura per gli statuti reggio punito teoricamente col taglio della mano destra e in certe leggi italiane addirittura con la morte e però effettivamente Scaruffi si confessò a questo funzionario d'uguale perché questo dice la lettera fu poi portato immediatamente a Ferrara a Ferrara commesso dentro le carceri del castello rimase in carcere circa tre mesi un po' più di tre mesi e però durante questo periodo naturalmente i funzionari del duca cercavano di trattare con Scaruffi perché a loro poi fondamentalmente interessava intascare soldi e quindi fecero una specie di patteggiamento con Scaruffi e ottennero un versamento di oltre 1600 ducatoni d'oro da Scaruffi col che poi si accordarono e lo lasciarono libero alla fine dell'estate quindi questa è la vicenda che portò appunto Scaruffi in carcere esatto dopodiché poi lui fu liberato abbiamo detto nell'82 nel 1582 pubblica il suo trattato muore due anni dopo nel 1584 certo lui si possa aggiungere una volta scarcerato io ho trovato due o tre o quattro lettere insomma che mi hanno illuminato tutta la vicenda e alla fine lui recupera in pieno la sua diciamo la sua fama di cittadino onesto e la sua quindi anche la sua ricchezza perché nell'immediato naturalmente ha uno scossone anche economico perché per mesi costretto a stare in carcere non riesce più a restituire i soldi che gli venivano depositati nella sua banca insomma quindi c'è stato indubbiamente uno scossone da cui però lui che aveva grandi ricchezze aveva tanti possedimenti terrieri aveva amici e cugini e parenti molto ricchi che potevano dargli una mano si è velocemente ripreso e qui tanto è vero che poi gli hanno dato tanti altri incarichi anche per il comune di Reggio negli anni successivi alla fine ha scritto persino questo importante trattato senta leggo sul mensile stampa reggiana di questo mese che tra l'altro lei ha fatto proprio una recente presentazione affiancato l'ha introdotta proprio Carlo Baldi e la sala era gremita quindi segno che la storia locale interessa incuriosisce intriga ma io credo di sì credo di sì sicuramente intriga me ma anche molta gente alcuni naturalmente erano amici e parenti convocati a forza da me come capita in questi casi però certamente c'erano anche tante persone che io non conoscevo neppure per esempio la stessa far a numerosi la famiglia artistica reggiana numerosi associati che vanno a tante di queste presentazioni loro fanno quelli che chiamano i giovedì del caffè del giovedì e fanno lì nel nel in quel non mi ricordo come si chiama questo rifianco del caffè che si trova ai chiostri di San Pietro laboratori aperti mi pare e effettivamente viene sempre tanta gente senta professore torniamo un attimo al momento della sua ricerca perché poi vorrei passare anche ad un'altra ricerca che lei ha fatto anzi più che ricerca scoperta quindi lei incrocia nelle sue ricerche sul Mauriziano questa lettera relativa all'arresto di Scaruffi o meglio intercetta il nome e quando è che poi le si è aperto questo mondo cioè cosa ha fatto subito dopo concretamente è andato a cercare oltre se c'erano delle lettere delle comunicazioni per ricostruire la storia e quanto tempo ha impiegato sì beh allora io su Scaruffi avevo già scritto in passato avevamo pubblicato nel 2010 un bel libro su Palazzo Scaruffi perché Palazzo Scaruffi si trova esattamente di fronte a quella libreria famosa dove si trova la sua ricerca in via Crispi ed è interessante per esempio destino vuole che si incrociano sì sì io mi incrocio spesso di nuovo i miei personaggi che già conosco e anche perché probabilmente se non l'avessi conosciuto bene prima quella lettera mi passava inosservata invece conoscendo bene il personaggio ho subito capito che cosa si trattava e quindi mi si è voluto poco dopo a intrecciare tutta la storia e metterla insieme quindi in realtà in questo caso ho fatto molto presto certe ricerche sono lunghissime certe altre sono rapide per esempio un giorno per tornare al nostro amico Carlo Baldi un giorno io trovai per caso dal più stato di Reggio il sigillo dell'università di Reggio si parlava prima di Unimore perché come sapete già nel settecento c'era stata un'esperienza importantissima dell'università di Reggio che si trovava a Palazzo Busetti lì in pieno centro e oggi c'è H&M un tempo insegnava Lazzaro Spallanzani e effettivamente trovai questo sigillo dell'università e quando lo comunicai a Carlo Baldi fu entusiasta anche che fu presentato alla stampa insomma fu un vero e proprio scoop anche quello quindi tanto per dirle anche quella fu una ricerca importante a volte trovare la cosa e poi dopo se uno conosce un po' la storia di queste istituzioni o di questi personaggi poi la riallaccia rapidamente a tutto il resto senta ma lei è come un romanziere quando fa queste ricerche si immagina poi anche i personaggi rivede le trame di quello che hanno vissuto galoppa la fantasia sì devo dire che mi immedesimo un po' in questi personaggi non nell'arresto di Scaruffi però in particolare però normalmente cerco di entrare in empatia con il personaggio a forza di studiarne le carte e quindi questo però mi aiuta anche perché se riesco a capirne un po' la psicologia a volte trovo cose ulteriori che se no non troverei chiaro devo dire che la passione mi spinge a questo voglio aggiungere un'altra cosa che uno dei motivi per cui mi piacciono queste ricerche è per riportare a galla per riportare in vita anche personaggi che magari sono stati dimenticati da secoli e secondo me siccome spesso si tratta di personaggi importanti o anche di personaggi normalissimi che però magari la storia è completamente dimenticato il fatto di riportarli a galla di riparlarne di scoprire dei dettagli della loro vita che possono essere importanti possono essere anche negativi come questo di Scaruffi che poi magari aveva tutti i motivi per farlo e magari era anche innocente perché noi sappiamo che allora si faceva presto a torturare qualcuno e a farlo confessare per cui io ho scoperto le lettere ma non ho scoperto la colpevolezza di Scaruffi intendiamoci anzi chissà che in un futuro magari non si trovi magari qualcos'altro su Scaruffi magari anche per scagionarlo proprio per lei che insegna diritto penale vuol dire anche tanto dal mio punto di vista penso confrontare quelli che erano i reati di un tempo e come si agiva né come venivano condannati coloro che appunto li commettevano rispetto a quanto è avanti oggi il diritto in particolare in Italia lo vediamo anche in alcuni paesi esteri che ci sono ancora delle forme che dal nostro punto di vista sono sicuramente decisamente indietro ecco certo se vuole posso citare un'altra mia ricerca che feci anni fa perché studiai la congiura dei feudatari parmensi contro Ranuccio Farnese che fu una cosa epocale perché furono alla fine giustiziati 7-8 dei feudatari più importanti si parla di Torelli di Montechiarugolo di Barbara Sanseverino di personaggi importantissimi che furono giustiziati nel 1612 nella piazza oggi piazza Garibaldi di Parma perché il duca Ranuncio Farnese ritenne ritenne che stavano congiurando contro di lui ma fu un processo impressionante io ho studiato tutti i faldoni di questo processo all'archivio di Stato di Parma e quindi ho scritto poi un libro su questo che ha avuto anche un certo successo proprio perché si va alla scoperta del sistema della giustizia di allora e di come queste cose erano addirittura dei tritacarne totali noi sappiamo che a volte la giustizia è un tritacarne anche oggi ed è anche di questo che mi occupo nelle mie ricerche penalistiche attuali però effettivamente un tempo era addirittura molto peggio forse come ancora purtroppo in certi altri stati in certe nazioni in cui i principi fondamentali che da noi sono nella Costituzione non si applicano certo certo magari professore se le va qualche altra volta avremo occasione di scandagliare anche questi aspetti io volevo prima di chiudere questa piacevolissima intervista a lei dal mio punto di vista volevo parlare anche di questo il quadro ritrovato perché non c'è solo storia c'è a un certo punto anche l'arte e questo è ancora per certi aspetti forse più sensazionale come ricerca perché che cosa le è accaduto? beh innanzitutto mi piace molto nelle mie ricerche magari lavorare sulla storia dell'architettura o dell'arte proprio perché tornando al paragone col diritto le nostre ricerche quando guardate un libro di diritto non trovate mai una figura un'immagine una foto ecco e questo mi è sempre dispiaciuto invece queste ricerche che faccio adesso nel tempo libero per esempio sulla storia dell'arte reggiana eccetera mi portano anche a confrontarmi con dei quadri dei dipinti dei palazzi delle cose che sono belle e che è bello anche pubblicare quindi uno dei motivi per cui mi piace la storia le scoperte di storico-artistiche è questo l'altro perché sono appassionato delle storie dell'arte e in questo caso anche lì mi sono un po' imbattuto in a un certo punto andando in Ghiara e nella sagrestia della Ghiara ho trovato un dipinto che a guardarlo mi è sembrato subito una copia da Palma il Giovane che era un pittore veneziano molto importante dei primi fine cinquecento inizio seicento e mi sono domandato cosa poteva farci lì una copia di Palma il Giovane e siccome avevo già studiato anche lì Palma il Giovane in uno dei miei articoli precedenti sulla storia di Reggio perché questo pittore lavorò molto per Reggio i reggiani erano appassionati di questo Palma il Giovane soprattutto nei primi anni del seicento allora sapevo che c'era stato un quadro che raffigurava una crocifissione nella chiesina di San Rocco che è una chiesina purtroppo scomparsa che si trovava in via San Rocco in centro da Reggio e in quella chiesa c'era un quadro di Palma il Giovane sulla crocifissione dato per scomparso io allora ho insomma ho incrociato tutta una serie di dati questa copia che ho trovato eccetera ho trovato al Metropolitan di New York questo quadro e ho quindi scoperto che il quadro che per secoli era rimasto a Reggio in quella piccola chiesina poi attraverso vari giri complicatissimi arrivò poi a New York a metà degli anni 50 e oggi si trova al Metropolitan di New York ecco professore non posso non chiederle che cosa ha provato personalmente perché suppongo che davanti a una scoperta di questo tipo non si può rimanere insensibili o neutrali a livello emotivo e no questa mi ha entusiasmato questa scoperta al punto che ho coinvolto poi perché dopo è uscito il libro che è stato il frutto poi di ricerche ulteriori dopo questa prima scoperta ho coinvolto amici parenti ho persino una cugina che abita a Manhattan e le ho chiesto addirittura ai tempi della pandemia io non potevo andare a New York a vedere il quadro di andarmelo a fotografare per poter fare la copertina del libro quindi insomma è stato tutto un intrigo internazionale perché era tanto il mio entusiasmo per questa scoperta e per quella che poteva essere l'approfondimento di questa ricerca che poi mi ci sono dedicato anima e core come si dice alla fine ho pubblicato questo libro un anno fa che è stato effettivamente un successo a livello quantomeno locale ma anche anche a New York il curatore metropolitan è stato molto contento perché finalmente anche loro hanno scoperto l'origine di questo dipinto è veramente una storia sorprendente complimenti senta un'ultima domanda che non c'entra assolutamente niente con le sue ricerche ma come professore universitario lei vive studiando è un appassionato d'arte è un appassionato di storia locale ma professore quante ore dorme lei a notte ma più o meno come gli altri più o meno come gli altri riesce a fare tutti questi studi beh è una grande fortuna è una moglie che mi dà una mano in casa e quindi nonostante abbiamo una famiglia e diciamo che lei si sobbarca una buona parte delle fatiche domestiche e questo mi dà molto tempo libero però siccome anche a lei piacciono le mie ricerche ci divertiamo insieme a raccontarcele alla sera prima di andare a dormire grazie grazie professore grazie anche per questo spaccato che ci ha voluto raccontare e grazie per le sue ricerche ringraziamo allora ancora una volta Alberto Cadoppi ricordo professore universitario ricercatore storico e ringraziamo i nostri telespettatori per averci seguito grazie a tutti